Domani è il 30 giugno, ma contrariamente a quanto annunciato nei mesi scorsi dell'amministrazione a Corinti, non ci sarà l'atteso passaggio di Messina Ambiente all'AMAM, atto propedeutico alla costituzione della nuova società multiservizi. I timori della vigilia si concretizzano ed ancora non è stato avviato il processo. Oggi la conferenza dei servizi tra il commissario liquidatore Alessio Ciacci, il dirigente del Dipartimento Ambiente Domenico Signorelli e l'assessore Daniele Ialacqua. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuerà ad essere gestito da Messina Ambiente in regime di proroga. Sul futuro regna ancora qualche incertezza. L'azienda meridionale Acqua di Messina dovrà assorbire il personale della municipalizzata di Via Dogali. L'iter per il definitivo riassetto delle partecipate appare però ancora lungo e complesso. L'attenzione è puntata sul Consiglio Comunale che dovrà infatti pronunciarsi sullo statuto dell'AMAM ed ampliare dunque le competenze della società idrica anche al settore dei rifiuti. Allo stato attuale sembra difficile ipotizzare tempi. È vero che la Giunta ha approvato nei mesi scorsi la delibera, ma in tutto questo periodo non è stato avviato il confronto chiesto dalla competente commissione consigliare e in molti, più volte e in diverse occasioni, hanno espresso perplessità sul progetto.